Importante riconoscimento per l'ebolitana Olga Pastorino che nel corso dell'ultima Cancer Conference tenutasi a Bologna dal 23 al 25 luglio scorsi ha avuto la possibilità di presentare alcune slide relative ad una ricerca legata agli effetti degli inibitori dell'HDAC sulle cellule interessate da un glioblastoma, una delle forme più aggressive di cancro al cervello. La dottoressa Pastorino sta conseguendo un dottorato di ricerca in microbiologia presso l'Università della Campania Luigi Van Vitelli.